And then when you're out and together you know for the last one we're free Baby, the truth of new and happy days And nothing more We didn't just want it for wonderful love Do we make it cool? Breaking Jazz nasce nel secolo scorso in una piazza importante di Milano Piazza Mercanti, sono passati gli anni e ora la residenza di questa splendida, diciamo, rassegna dedicata ai giovani e qui presso la Volvo Quindi Breaking Jazz è una musica innanzitutto non di sottofondo ma è una musica di ascolto, soprattutto il jazz che tutti pensano che sia musica di sottofondo per gente che beve, che mangia, che fuma No! I nostri migliori ragazzi naturalmente li veicoliamo in questa rassegna perché si fanno un'esperienza straordinaria il contatto con il pubblico è determinante mentre il ragazzo trasmette le proprie emozioni la gente, il pubblico riceve e le emozioni è come se fosse una partita a ping pong e devo dire che alla Volvo da tre anni queste partite sono straordinarie Gli appuntamenti sono Il 31 maggio, Maria Emilia Luca Quartet Omaggio a Carmen McRae 8 giugno, i Sofia Zavaglia Quartet Omaggio a Gioso Donato 15 giugno, i Macade Trio Omaggio a un grande pianista italo-americano C'è Corea E la chiusura è il 29 giugno Gabriele Mamone Trio Omaggio a un grande musicista, un grande direttore d'orchestra e un grande compositore Wayne Shorter Buon divertimento e buon ascolto Grazie mille